Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale, sono andata a fare shopping di prodotti di bellezza, beauty quindi oggi facciamo un bel haul con un sacco di prodotti, abbiamo un sacco di skin care, qualcosa per capelli, profumini e make up poco prima di incominciare volevo fare un attimo di propaganda per il canale perché io vi vedo che voi guardate i video ma non vi iscrivete quindi se siete qui vi chiedo per favore di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo, l'obiettivo più grande è quello di arrivare ai 1000 iscritti quindi facciamo crescere il canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, ricordatevi di lasciarmi un like di incoraggiamento, di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti perché mi fa sempre piacere sapere la vostra opinione adesso che abbiamo finito con la propaganda canale volevo spendere un minuto per dare un aggiornamento visto che me l'avete chiesto sui prodotti effetto botox di Italfarma che avevo fatto vedere in uno scorso haul mi sono arrivati qualche messaggio che ho scritto fai l'aggiornamento sui prodotti botox come ti sei trovata dunque io li ho quasi finiti, non li ho ancora completamente finiti perché mi stanno durando un'eternità li ho quasi finiti però sinceramente non li ricomprerei perché tra i due io avevo preso il siero botulino effetto botox e il contorno occhi sempre botulino effetto botox di Italfarma mi è piaciuto di più il contorno occhi come consistenza, vi avevo fatto vedere la consistenza nel video haul consistenza di tutti e due prodotti acquosissima, questo un pochino più viscoso rispetto a questo che è proprio acqua mi è piaciuto di più il contorno occhi ma sinceramente non lo ricomprerei anche perché ho un sacco di contorni occhi da provare ne ho almeno tre in coda da provare quindi sinceramente non è una linea che ricomprerei perché non mi ha entusiasmato più di tanto mi è piaciuto il fatto della consistenza acquosa però mi è piaciuto il fatto che si assorbivano velocemente nella pelle non mi lasciavano la pelle lucida e nemmeno oleosa perché sapete che io ho una pelle super delicata e mista quindi qualsiasi cosa che metto che è un pochino più oleoso e non consistenza gelosa mi obbera i pori e io divento lucida come se mi potete fare sulle patatine fritte praticamente in viso quindi niente io non li ricomprerei però mi è piaciuto il fatto che si assorbono molto facilmente subito velocemente e non mi lasciano la pelle lucida una cosa che ho riscontrato ultimamente che mi ha fatto veramente una gran differenza nella mia skin care è il fatto di usare più delicatezza con il viso io sono una smanacciona di base quindi quando mi mettevo i prodotti smanacciavo con le mani no e facevo un massaggio molto profondi eccetera adesso ho visto il video di chloe morello che è un influencer grandissima di australiana famosissima la conoscete sicuramente che lei ha praticamente ha fatto vedere come stendere la skin care con il metodo clarence clarence che ha di stendere la skin care con questi movimenti sempre verso l'altro ma verso l'alto non l'altro ma così quindi io che cosa faccio con la mia skin care ovviamente all'inizio quando me la metto sul viso la spalmo ma con molta delicatezza e poi fino ad assorbimento faccio questi movimenti di pat pat insomma pat pat sulla pelle fino a completo assorbimento sia del siero che della crema e ho notato una gran differenza perché mi vedo il viso più disteso più luminoso e meno sbattuto come quando smanacciavo insomma quindi questo fa una gran differenza passiamo ai prodotti che ho comprato iniziamo subito con la skin care io ho un problema perché va bene voi lo sapete che io sono un'accumulatrice lo si vede anche dal retro della mia cameretta se avete visto qualche mio video in cameretta io sono un'accumulatrice e ho comprato ben tre prodotti che fanno la stessa che svolgono la stessa funzione perché perché mi sento vecchia mi sento con la pelle vecchia voglio rigenerare voglio voglio dare una sferzata di luce e di rinnovamento alla mia pelle quindi ho comprato tre prodotti tutti e tre praticamente con la stessa funzione e che non finirò mai probabilmente e niente quindi cominciamo con il primo che ho già provato ieri sera per la prima volta quindi posso darvi subito un'impressione a caldo è il fitoacid fluido sbiancante ai poliacidi vitaminico di akis ecco eccolo qui si presenta così tra l'altro questo brand è totalmente un mistero perché io sono andata a cercarlo su internet e non ho trovato niente anche perché non dice la scatola non dice come si usa questo prodotto è un fluido sbiancante ai poliacidi ma non non so come utilizzarlo io praticamente l'ho utilizzato così l'ho messo a pelle detersa dopo il tonico prima della crema idratante e non l'ho resciacquato anche perché quando l'ho messo si è assorbito immediatamente dalla pelle quindi non è un prodotto cioè non sembra un prodotto da risciacquo non rimane oleoso si assorbe completamente subito allora qua dentro ci sono una miscela di acidi glicolico azelaico gamma aminobutirrico lipoico mandelico citrico latto bionico cogico ok quindi è un concentrato è un miscuglio di acidi che permette il rinnovamento della pelle e anche conseguentemente lo sbiancamento della pelle io l'ho preso non per sbiancarmi perché sono già comunque abbastanza chiara di pelle ma per appunto per utilizzare questi acidi per un rinnovamento cellulare non dice assolutamente in che concentrazioni ci sono questi acidi ok e quindi non dice dice solamente uso esterno evitare il contatto con gli occhi quindi non dice se è risciacco se non è risciacco quante volte lo si può utilizzare alla settimana io l'ho utilizzato ieri sera per la prima volta perché non ci stavo più dentro lo volevo provare e vi posso subito dire che se avete la pelle super sensibile come potrebbe essere la mia non è il prodotto che fa per voi perché stamattina al mio risveglio quando sono andata a sciacquare il viso mi sono subito riempita di puntini rossi la pelle mi si è arrossata dopo passa è perché nel giro di qualche ora passa ma se avete la pelle tendenzialmente molto delicata che si arrossa che con questi problemi o con problemi di dermatite eccetera è meglio che non lo utilizzate perché andate a creare più arrossamento quindi questo prodotto io che cosa ne voglio fare adesso io lo voglio continuare a provare magari una volta alla settimana ovviamente alla sera perché ci sono dentro gli acidi ci sono degli acidi che sono fotosensibili alla luce quindi ovviamente alla sera io avevo fatto il test sulla mano prima di metterlo sul viso e non mi ha creato alcun rossore quindi sono andata tranquilla mi ha creato un po' di rossore al viso perché ovviamente la pelle del viso è molto più delicata di quella delle mani è un 100 ml quindi il prodotto è tanto e vediamo vediamo al massimo lo darò a qualcuno il prodotto si presenta così è scuro è un liquido scuro vedete ed è completamente si assorbe completamente sulla pelle non vi lascia nessuno strato oleoso se qualcuno sa qualcosa di questa marca di akis e della linea fitoacid mi lo faccio sapere nei commenti perché io non riesco a trovare niente è un brand del mistero tutte queste cose le ho comprate in un ingrosso per professionisti del settore estetico quindi parrucchieri e estetisti c'era praticamente lo stand, la corsia piena di questi prodotti akis di tutte le linee c'era la linea fitoacid, c'era la linea antirug c'era la linea ritual spa tipo quindi c'erano un sacco di prodotti ma io su internet non riesco a trovare praticamente quasi nulla addirittura della linea fitoacid non trovo nulla quindi non so se è una linea nuova o se è una linea vecchia ma non trovo nulla quindi se voi sapete qualcosa fatemi sapere nei commenti sulla stessa lunghezza d'onda ho preso l'acido azelaico di Pharma Complex è un siero e mi dice effetto immediato dona luminosità al viso con efficace azione antiossidante il piano per questo è sempre quello di utilizzarlo la sera magari quello là che so che è più aggressivo diciamo tra virgolette per la mia pelle poi per la vostra pelle lo sapete voi dovete provare mentre questo vediamo come io non l'ho ancora mai provato e vediamo come si comporta possiamo vedere già subito vi dico com'è la consistenza sembra più una consistenza leggermente più oleosa più gelosa di quell'altro a differenza di quell'altro che si assorbiva immediatamente questo mi rimane un pochino sulla pelle profumo non ne ha o al massimo è proprio una cosa delicatissima un odore delicatissimo e mi rimane effettivamente più oleoso di quell'altro quindi assolutamente è un prodotto per me da utilizzare la sera sotto la la crema idratante ok anche perché non so se l'acido azelaico è fotosensibilizzante meglio non correre rischi e dovrò andare a fare delle ricerche ultimo prodotto sempre rivitalizzante lo skin perfection di l'oreal siero skin perfection siero concentrato correttore pelle perfetta qua dentro i principi attivi sono le lr 24 12 e il perline p che io non so cosa siano sono delle formule probabilmente create da l'oreal ideale per un'età 30 anni quindi ci siamo anche se io non ne ho 25 ci siamo non riesco neanche a fare l'occhiolino quindi l'r l'r livorno roma 24 12 è il frutto di 10 anni di ricerca l'oreal l'oreal è un potente attivo correttore che ottimizza la struttura dell'epidermine mentre il perline p associazione è di tre attivi perfezionatori per trasformare la qualità della pelle in superficie ne sappiamo tanto quanto prima non è comedogenico che questo è quello che cittere che mi interessa di più anche questo non l'ho ancora provato però lo proviamo adesso sulla mano per vedere la consistenza proviamolo dall'altra parte ok sembra quasi una crema profumo delicatissimo adesso vediamo in quanto tempo si assorbe se mi lascia una patina oleosa perché io pensavo questo di utilizzarlo al mattino perché ovviamente tutti gli altri prodotti li utilizzo la sera intanto è uscito anche il sole che mi sta illuminando d'immenso sono anche tutta a quadretti per la tenda perfetto bene sembrerebbe che comunque si stia già assorbendo andiamo avanti con ovviamente abbiamo fatto tutti i sieri adesso è il momento della crema viso mi sta finendo la crema viso la mia crema viso in assoluto preferita che è l'erbola no i provenzali rosa moschita ho deciso di provare a prendere questa la cleanians idra plus crema idratante leggera per pelli normali o miste io ho bisogno di una crema idratante leggera perché come sapete divento subito lucida quindi anzi io addirittura per tra virgolette sgrassarla la crema la unisco ad un pochino di gel di aloe vera al 98% che me la rende più in consistenza gel e me la sgrassa anche e mi si veicola anche prima nella pelle facendola assorbire completamente non lasciandomi nessun residuo sulla pelle questa è già mi dice crema idratante leggera ha già il succo di aloe vera e acqua marine dentro perfetto quindi la proveremo e vi farò sapere ultimo no ultimi due prodotti skin care ho ricomprato il gel di rock il gel detergente gentile extra gentile delicato e dice deterge delicatamente anche la pelle più delicata senza seccarla questo gel con questo gel io mi trovo benissimo non ha profumazione è estremamente delicato con la pelle e non mi lascia nessun rossore quindi l'ho ricomprato ultimo prodotto skin care ho preso questa spazzolina io ne ho già una del genere tra l'altro questa è marchiata DM non so che cosa ci faceva la nel negozio per professionisti del settore comunque è un un massage pad per il viso e ne ho già uno simile però un pochino più piccolo e vediamo se mi trovo bene se mi trovo meglio con questo per il viso tengo questo se invece mi trovo meglio con quell'altro questo lo utilizzo per pulire i pennelli qua dentro tra l'altro è finito dentro questo coso perdonate questa cosa ma non l'ho ancora aperto vedo lo proverò e vedo se cambiare o tenerlo per pulire i pennelli passiamo ai capelli passiamo ai capelli voi lo sapete che io sono fan di fanola e praticamente ho preso questa maschera leave-in che è un 10 in 1 come del resto vi avevo fatto vedere lo spray leave-in di professia che mi è durato praticamente due anni lo sto quasi finendo e ho deciso di sostituirlo di provare di provare questa maschera spray ristrutturante 10 azioni senza risciacquo quindi leave-in di fanola e niente cosa dice qua dietro si può allora maschera spray ristrutturante 10 azioni senza risciacquo con argan lino e proteine del latte perfetto quindi vaporizzare sui capelli umidi prima del phon della piega e vi farò sapere anche di questa che cosa ne penso 10 in 1 andiamo avanti con prodotti per capelli ho preso questa spazzolina bellissima molto morbida molto flessibile in plastica dice spazzola super flessibile il marchio è idc institute ok e l'ho presa di questo bel color rosino anche questa non vedo l'ora di provarla non l'ho ancora tirata fuori dalla confezione sinceramente non vedo l'ora di provarla questa spazzola è scritto qua dietro facilita facilita l'asciugatura del capello se siete delle persone che se siete ragazze che praticamente vi asciugate i capelli con il phon e la spazzola perché vedete che ha tutte queste prese d'aria insomma quindi facilita l'asciugatura e anticrespo e antielettricità super flessibile forma ergonomica facil limpiezza è scritto in spagnolo sto traducendo al momento dovrebbe essere facile da pulire facil limpiezza quindi veramente molto facile quindi questa l'ho presa per me ho fatto un regalino anche alla mia mamma e ho preso anche lei una spazzolina e lei usa queste spazzole e quindi per tenere di spazzola di famiglia per mia mamma mio papà mio papà è il camera dead e il jolly lui usa quello che c'è insomma quindi ho preso anche questa spazzolina una spazzola normalissima nel senso con i pallini qua sopra in plastica e spazzola normalissima regalino facciamo l'unico prodotto make up ho preso questa bella bustina senza marchio probabilmente per fare dei secondo me questa non è un prodotto professionale ma per fare dei regalini alle clienti probabilmente è una pochette con dentro i pennellini da viaggio la qualità è sono tutte fibre sintetiche e vi faccio vedere il pennello che mi piace di più tra questi è questo da ombretto e niente sono pennellini sintetici la qualità è quello che è insomma non li ho ancora provati li proverò non mi fanno impazzire non è che mi fanno molto impazzire però vediamo 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 se si possono portare in viaggio oppure è meglio che li regalo a qualche bimba alle prime armi che cosa mi manca ah vabbè ho preso lo smalto il levasmalto scusate l'acetone acetone solvente per unghie profumato quindi un acetone profumato dice con glicerina e vitamina E voi sapete che io faccio il gel alle unghie delle mani però sulle unghie dei piedi uso lo smalto normale quindi l'acetone è per i miei piedini profumini profumini ho preso questo profumo opio è un profumo roll on ma low cost marchio amber perfum non conosco il marchio è un marchio low cost e niente proviamo questo profumino io me lo sono provato perché là c'era il tester sapete che sono andata in fissa con la fragranza opium per il diffusore ve l'avevo fatto vedere l'altra volta di Theos quindi appena visto opio ho detto mio infatti l'ho provato mi è piaciuto e vediamo se continua nel tempo ho preso anche altri due profumatori per il diffusore questa volta della marca sweet home collection sandalo e gelsomino jasmine sandalo l'ho appena provato sta andando nel diffusore in camera mia e devo dirvi che la profumazione è persistente il sandalo sinceramente non mi fa molto impazzire perché lo trovo molto dolciastro però la profumazione è persistente aspetto di provare nel diffusore jasmine gelsomino e niente quindi ho alte aspettative perché comunque ho sentito che la profumazione è è i miei livelli è i livelli che mi piace ultimo profumino poi vi lascio andare questo non l'ho comprato ma è un regalo di iodeima sapete che io adoro questo marchio iodeima fa praticamente le equivalenze dei profumi più venduti in adriana adriana praticamente è l'equivalenza di sì di giorgio armani sì giusto sì di giorgio armani me l'ha regalato una mia amica l'ho provato ovviamente mi piace io di iodeima ho iris che è l'equivalenza di alien e seduction che è l'equivalenza di chloe alien ce l'avevo anche in profumo originale quindi vi posso dire che l'equivalenza è uguale e sono profumini molto persistenti e io mi trovo stra 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 bene e quindi niente quindi adriana è sì di giorgio armani mi piace anche sofisticate che è l'equivalenza di the one di dolce gabbana sarà il prossimo profumo che prenderò sicuramente quindi niente va bene stiamo già andando oltre 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 il video finisce qui io vi bacio vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale lasciarmi like di supporto e sentirci qua sotto nei commenti vi bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao